Oggi ci troviamo a Mondavio. Perché siamo qui oggi? Perché Francesco Di Giorgio Martini, all'età circa di 44 anni, progettò questa bellissima rocca alle mie spalle. Lui è stato un grande architetto, un teorico dell'architettura, un ingegnere, ma anche un pittore. E allora ConfCommercio ha deciso di celebrarlo, celebrarlo nelle sue grandi opere, attraverso l'itinerario delle rocche. Da diversi anni abbiamo aderito all'itinerario della bellezza, proprio per valorizzare il nostro territorio in collaborazione con altri comuni, comprendendo che l'Unione fa sempre la forza e quindi questo è un territorio ricco di tante bellezze, anche differenti, e valorizzarle in maniera unitaria, come dire, permette una promozione più efficace e un risultato sicuramente più positivo. All'interno di questo itinerario della bellezza, in questi anni si sono sviluppati diversi itinerari, l'itinerario appunto delle rocche valorizza sicuramente in modo particolare e incisivo una realtà come quella di Mondavio, che vanta all'interno dell'itinerario stesso uno dei monumenti più significativi da un punto di vista difensivo che la storia ha attribuito a questo territorio provinciale. L'itinerario delle rocche di Francesco di Giorgio Martini è, a nostro modo di vedere, una delle eccellenze della provincia di Peso Rubino e particolarmente dell'itinerario della bellezza, perché è proprio in questo nostro circuito che Francesco di Giorgio Martini realizzò alcune delle opere più significative, più straordinarie, dalla rocca di Mondavio, che è una cosa bellissima, ogni volta che la si vede si rimane abbagliati dalla bellezza, a Fossombrone, a Cagli, a Sasso Corvaro, che è stata la prima opera realizzata da Francesco di Giorgio Martini. Insomma, è un itinerario che dal punto di vista turistico ha una grande rilevanza, c'è un grande interesse in Italia, nel mondo, per la nostra storia rinascimentale e le opere di Francesco di Giorgio rappresentano veramente delle eccellenze nel panorama rinascimentale italiano. Ci sono addirittura in Italia delle scuole, degli istituti che si richiamano ai castelli alle rocche, come l'istituto dei castelli di Milano, che viaggiano, organizzano convegni, seminari e visite guidate proprio in questi luoghi. Quindi noi abbiamo estratto dall'itinerario della bellezza, questa volta le rocche, altre volte abbiamo fatto con l'archeologia e proseguiremo con altre eccellenze del nostro territorio. Ci troviamo con l'assessore al turismo del comune di Fossombrone perché Francesco di Giorgio Martini fece il progetto di due opere nel comune. Sì, assolutamente. La rocca, appunto, che è presente nell'itinerario giustamente delle rocche, ma anche la Corte Alta è un suo lavoro e quindi all'interno della Corte Alta abbiamo la Pinnacotica Civica e il Museo Archeologico, quindi questa è addirittura proprio visitabile all'interno. Sulla rocca stiamo lavorando, come abbiamo fatto in tutti i musei, quindi è stato un lavoro in questi anni, devo dire, molto molto impegnativo e piano piano stiamo arrivando dappertutto. Beh, state arrivando dappertutto, i risultati già sono più che soddisfacenti perché quest'estate c'è stata una grande affluenza nel vostro comune. Sì, devo dire che già avevamo un bel movimento, già in questi anni è stato sempre in crescita. Quest'anno, come tutti preoccupati un po' per la questione Covid, invece abbiamo avuto un'estate strepitosa e quindi devo dire tantissima gente, come dico, anche il fatto che eravamo pronti con l'apertura chiamata, che è questo sistema che a volte viene tanto criticato, ma che invece ci dà grandi possibilità innanzitutto di accogliere in un certo modo i nostri turisti e quindi accoglierli tutti, accompagnarli e questo fa, vedo molto piacere a chi viene nella nostra città. Ma in più, come dico, con la questione Covid eravamo pronti in sicurezza a far entrare tutte le persone che sono venute all'interno dei musei e questa è stata una grande soddisfazione e un grande piacere.